Buon ascolto del Vangelo di oggi di venerdì 21 luglio, Vangelo secondo Matteo 12, 1-8 In quel tempo Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano, e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero, Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro, Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai suoi sacerdoti. Non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti del Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se avete compreso che cosa significhi, misericordia io voglio, non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa. Perché figlio dell'uomo è signore del sabato. Parola del Signore Buon ascolto del commento di Don Luigi Maria Picocco Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare in un giorno di sabato. Il problema è quasi sempre lo stesso. Gesù è percepito come uno che rompe lo schema. Eppure tutti abbiamo bisogno di uno schema, di una regola, di un metodo, di un percorso preciso. Perché dunque Gesù sembra costantemente destabilizzarci attraverso la messa in discussione delle regole? Forse vuole abolirle? Assolutamente no. Egli è preoccupato di non far coincidere la fede con le regole. La fede è sempre più grande delle regole. Come l'amore di una madre per il figlio è più grande della buona abitudine a lavarsi le mani prima di sedere a tavola. Se l'amore di una madre si riducesse solo a ricordare al figlio di lavarsi le mani, che amore sarebbe? Come potrebbe col figlio avere la vita cambiata da un amore così? E non è forse il rischio della religione quando esso diventa solo memoria delle regole? Il problema è sempre lì, la differenza che c'è tra la misericordia e il sacrificio. Tra l'amore e la performance. Gesù non è venuta ad abolire la legge, ma ad abolire la falsa sicurezza che dà uno schema di regole quando si stacca dalla vita, o quando peggio, trasforma la vita in una fedeltà alle regole. La vita è sempre più grande e le regole servono a vivere. Non si vive per seguire delle regole, ma le regole ci aiutano a vivere. Quando non ci aiutano dovremmo domandarci perché. In questo senso, saggiamente, noi diciamo che nella regola deve esserci spazio anche per l'eccezione, che non abolisce la regola, ma la conferma. L'uomo è tale proprio perché in lui è presente la possibilità dell'eccezione, che cos'è perdono o la misericordia se non Dio che conferma la giustizia facendo eccezione? E come possiamo chiedere di essere perdonati se poi non siamo capaci di andare oltre la mera giustizia formale? E come possiamo chiedere di essere perdonati se poi non siamo capaci di andare oltre la mera giustizia. E come possiamo chiedere di essere perdonati se poi non siamo capaci di andare oltre la mera giustizia.